Lunedì 22 gennaio parte oggi ufficialmente il nuovo metodo di conferimento di rifiuti nella zona traffico limitato del centro storico di Pesaro, quello attraverso le eco-isole informatizzati, i cosiddetti cassonetti intelligenti. Ne sono stati disposti 17 in queste settimane in tutta la ZTL del centro storico, 17 che si vanno ad aggiungere ai 6 precedentemente installati lo scorso anno per quella che fu una sperimentazione, due settimane di coesistenza fra il vecchio metodo di conferimento rifiuti, quello della raccolta con i sacchetti porta a porta e poi dal 5 di febbraio soltanto il conferimento attraverso le eco-isole alle quali si accederà attraverso la carta smeraldo che in questi giorni viene consegnata a residenti e utenze commerciali nell'ufficio di via Gavardini 10. In questi giorni abbiamo iniziato la consegna delle tessere a partire dal giovedì scorso abbiamo consegnato circa 3.200 tessere che equivalgono a circa 1.700 utenze. Diamo la possibilità di ritirare una coppia di tessere fisiche e una tessera virtuale che dà la possibilità di accedere alla raccolta tramite l'NFC del cellulare. Le isole attualmente sono sbloccate, sono libere, quindi il conferimento è subordinato solamente al pedale. Dal 5 di febbraio verranno attivate tramite la tessera. Diamo la possibilità a tutti i cittadini di poter conferire liberamente in qualsiasi orario e oltretutto sicuramente non vedremo, aumentiamo sicuramente il decoro per il centro storico perché non vedremo più magari i sacchetti a terra la notte. Quindi un grande investimento sia da parte della nostra azienda insieme al comune, all'amministrazione comunale, quindi una grande iniziativa che comunque ci porterà ad aumentare quello che speriamo diciamo aumentare il decoro della città soprattutto in un anno come Pesaro capitale della cultura 2024, un appuntamento in cui vogliamo essere pronti da entrambe le parti, sia Marche Multiservizi che l'amministrazione.